amici di unboxo buon pomeriggio come sempre stiamo unboxando qualcosa di carino è interessante almeno per me oggi andiamo ad unboxare e lo facciamo subito con il nostro Fido Parkside coltello affilatissimo da 7 euro questa, perdonatemi, meravigliosa pompa per acquari è una pompa USB che non avrebbe nulla di speciale se non fosse che è estremamente silenziosa è una pompa che io già posseggo, ne posseggo svariate e ho ricomprato per l'appunto perché sono veramente soddisfatto eccola qua nella sua bustina, andiamola a spacchettare allora, andiamo un pochettino allora, i modelli precedenti che ho comprato erano leggerissimamente più qualitativi adesso il prezzo è sceso, io le pagavo 15-16 euro, anche qualcosa in più l'ho pagata 9,90, ragazzi è un po' più plasticosa e non ha più il moschettoncino in metallo ci sono ancora quelle col moschettoncino in metallo costano leggermente di più non importa perché tanto io la la attaccherò così ad un pezzettino di elastico e basta però, insomma, faceva piacere avere la pompa diciamo, con un po' di rivestimento gommoso e magari qualche particolare in metallo per l'appunto cosa dire, queste pompe sono estremamente anonime come potete vedere è difficile che abbiano un qualsiasi tipo di orpello o una qualsiasi tipo di etichettina solitamente l'etichetta c'è per l'appunto sul pacchettino sono delle pompe estremamente silenziose che consumano tra l'altro estremamente poco che potete collegare direttamente ad una presa da 1 o 2 ampere dell'USB della vostra ciabatta comune multipla così come collegarla tranquillamente e semplicemente ad uno di quei piccoli alimentatorini per caricare i telefoni, come farò io per poter ossigenare l'acqua dei vostri pesci come funziona? Ci attaccate direttamente un tubicino in silicone se non avete le valvole di non ritorno fate conto che questa deve sempre stare sopra il livello dell'acqua perché altrimenti se si stacca l'acqua comincia a fuoriuscire dal tubicino e vi rovina la pompetta oppure vi fuoriesce tutta quanta sul pavimento quindi la tenete sopra il livello dell'acqua e la collegate una volta collegata farà uscire da questa micropietra porosa una quantità tale di bollicine da far sì che l'acqua si smuova che si rompa la superficie dell'acqua ed avvenga lo scambio gassoso per cui l'acqua dei vostri pesciolini si libera dei gas cattivi e rimane ossigenata ad un livello adeguato poi logicamente, attenzione, questa deve essere commisurata all'acquario se avete un acquario da 5000 litri, 1000 litri, 500 litri una sola pompetta di questo genere con una misera pietrolina porosa non ha tanto senso se avete un acquario come me sui 100 litri, 150 litri che ha già tanto movimento di superficie e quindi non ha bisogno di particolari aiuti una pompetta di questo genere invece può fare al caso vostro io le utilizzo queste pompette collegate al gruppo di continuità nel caso in cui si tagli, si stacchi vada in pausa l'energia elettrica per un blackout eccetera il mio gruppo di continuità riesce a far funzionare questa piccola pompetta dal consumo molto basso per tante tante ore e quindi a garantirmi che almeno lo scambio gassoso non il filtraggio ma almeno lo scambio gassoso sia assicurato all'interno degli acquari se poi inserite questa piccola pietra porosa collegata alla pompetta all'interno di un filtro spugna americano allora siete sicuri di avere anche un po' di filtraggio adesso ve la faccio vedere in funzione l'andiamo a provare per vedere il livello di rumorosità e se per caso può soddisfare le vostre esigenze o no le mie solitamente le soddisfa in quanto ne ho, ripeto, altri modelli ne ho altri tipi e sono veramente veramente silenziosi e parchi di consumi datemi un secondo allora amici come potete vedere ho appena connesso questa pompetta adesso la appoggio e farà un rumore letale perché sbattendo probabilmente lo farà al mio power bank allora connessa al mio power bank mi consente per esempio di trasportare dei pesciolini da un posto all'altro utilizzandola come pompa per l'appunto per far sì che l'acqua rimanga ben ossigenata io invece farò un montaggio direttamente all'interno di un mio acquario nel mobiletto del mio acquario per far sì che questa pompa dia un pochino di aria ad un normale filtro ad aria americano di quelli definiti filtri a spugna io lo chiamo filtro ad aria americano perché in Italia non li avevo visti usare ma sicuramente li abbiamo anche noi ed obiettivamente devo dire che funzionano davvero 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 bene come potete sentire io la sto avvicinando molto alla telecamera per farvi sentire il rumore è come un piccolo ticchettio immaginate la chiusa nell'armadietto del vostro acquario questa non la sentite mai e poi mai devo essere sincero questo modello che mi è arrivato è un pochino più rumoroso del solito cercherò la settimana prossima di acquistare il modello un pochino più costoso quello foderato di gomma per vedere se la rumorosità viene attutita un pochino di più comunque ragazzi questo era lo spacchettamento della pompetta adesso la avvicino al microfono per vedere se si sente un pochino meglio il rumore che fa dopo tutto nonostante io abbia comprato una pompetta da 9,90 cercando di risparmiare qualcosina e sapevo che avrebbe fatto un po' più rumore mi sento abbastanza soddisfatto sentite ecco penso che lo sentiate mi sembra vabbè dai mi sembra un rumore abbastanza accettabile io vi ringrazio con tutto il mio cuore vi saluto vi chiedo di iscrivervi al canale e vi mando un abbraccio ciao a tutti da Unboxo